Avete mai notato che nei film americani quando due detective sono in macchina e ricevono una chiamata dalla centrale, che devono andare dall'altra parte, il detective alla guida fa sempre un'inversione AV. Il centrale chiama e cioè quello fa l'inversione. Ma perché? È mai possibile che tutti i detective di tutti i film americani debbano andare in una direzione che è sempre opposta alla direzione in cui stavano andando? È un luogo comune. Questo è un luogo comune, così come un altro luogo comune quando lo stesso detective magari dice al suo collega, gli dice allacciati la cintura. Come se in America uno si allacciasse la cintura una volta sì e una volta no. In America si allacciano la cintura addirittura prima di entrare in macchina, a casa se la allacciano. Però questa frase ci vuole perché crea pathos. È un luogo comune. Un altro luogo comune terribile secondo me è quando due che insomma si amano, che finalmente si baciano, finalmente eh, quindi si baciano, finalmente arrivano a quel punto, magari però sono giù al portone oppure sono nell'ingresso di casa. La seconda inquadratura è quella di loro due che entrano nell'inquadratura abbracciata, cioè cadono sul letto praticamente. Quante volte abbiamo visto questa inquadratura di due che cadono sul letto? È un luogo comune, è un luogo comune. Poi vabbè ci sono delle cose che forse non sono luoghi comuni ma che ne so, se io tiro fuori un coltello, ok, un coltello, beh se lo metto qui sotto al braccio poi tiro fuori questo coltello non fa nessun rumore, guardate, nessun rumore. Però nel cinema questo coltello fa rumore, fa rumore, fa... oppure se prendo una pistola, questa è una beretta, no, che è il protagonista di tutti i film americani con la Glock. Ecco, io capisco che quando la carico faccia, faccia rumore. Però, però, quando la muovo, se io muovo la pistola non fa nessun rumore, non fa rumore. Invece fateci caso, quello cammina, 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 poi la pistola fa un rumore. Allora, queste cose, vabbè, poi ce ne sono anche altre che ti posso dire, i walkie-talkie per esempio che funzionano sottoterra, eh? Che non è possibile. È una roba inaccettabile che quello comunica da sopra con uno che è sottoterra, insomma, negli scantinati, nei sotterranei via radio. Non è possibile. Allora, io voglio dirvi con questo brevissimo video che quando scrivete una scena o quando state per girare una scena, poiché siete influenzati dalla mole incredibile di immagini che avete nella vostra testa, che avete immagazzinato, che immagazzinate tutti i giorni, ok? La prima immagine che vi viene a mente è proprio quella dei due amanti che cadono magari sul letto, quello stacco, oppure Centrale chiama l'unità mobile, la chiama e quello fa l'inversione a U. La mia raccomandazione è quella di non di mettere da parte la prima immagine che vi viene a mente, di lasciar perdere i luoghi comuni, ovviamente. È vero che nel momento in cui voi fate una cosa che avete già visto al cinema, vi dà l'idea che state facendo anche voi un bel film, ma invece voi, da voi, ci aspettiamo tutti quanti delle immagini nuove, delle inquadrature nuove, delle soluzioni nuove. Se voi guardate film di serie A e film di serie B o di serie C, vedete proprio che più scade il livello del film e più quel film è realizzato con immagini che sono tutte luoghi comuni della narrazione cinematografica. Più il livello sale e più vedete che il regista ha trovato un nuovo modo, ok, di inquadrare i due amanti o un nuovo modo di far fare, insomma, di accorrere al luogo dell'incidente con i due detective, magari fanno, che ne so, cambiano marcia, fanno sorpasso perché erano, insomma, stavano viaggiando lentamente, ok? Quindi lasciate perdere i luoghi comuni, ovviamente. Voi non ve ne accorgete, ma li usate, siete portati a usarli. Invece banditeli.